Amici ed amiche di Armando Sanchez e di Tutto Italia TV sono al limite della sopportazione. Ego Man ne ha combinato un'altra. Questa volta non soltanto attacca i personaggi nelle sue trasmissioni, attacca addirittura personaggi di altre trasmissioni come amici di Mere di Filippi, in particolar modo Albe Alberto. Ma come ti permetti, ma come puoi pensare un ragazzo bravo, intelligente, che si sta impegnando, che sta facendo un percorso importante con professionisti del settore e ti permetti di giudicare come canta, oppure come si muove sul palco, oppure come gestisce la sua figura professionale? Cioè veramente stiamo facendo. Io mi rendo conto che vuoi fare spettacolo, mi rendo conto che tu hai creato un personaggio, però non attaccare chi non ti può permettere di farlo. Perché non è giusto per nessuno. Inoltre stai offendendo una trasmissione condotta da una grande professionista che è Maria di Filippi, con tanta gente del settore competente, e tu ti permetti di andare a giudicare un ragazzo giovane che si sta impegnando. Non va bene così. Non va proprio bene. E sono stati bravi fan a difendere Albe su Twitter. Perché è un ragazzo che se lo merita. Da parte mia e di Tutto Italia TV. Sempre. Un abbraccio. Ciao.